E' stato difficile portarlo perché tra i complimenti, gli abbracci, i complimenti anche di Florentino Perez... Sì, sì, siamo contenti. Beh, che cavolo, come dire? Oh, non lo potevo dire, però... È successo un'altra volta, incredibile. E succede sempre. Succede sempre, sì. Succede sempre, perché qui si dice, nunca si rinde. Sì, si dice che 90 minuti al Bernabeu sono molto lungo. E' stato così un'altra volta e, che dire, non è che c'è molto... Credo che abbiamo giocato bene, meritavamo di vincere, però l'abbiamo vinta proprio agli sgoccioli, all'ultimo momento, come solitamente sono partite di questo livello. Sono sempre momenti emozionali quando lei festeggia con la squadra, no? Abbraccia tutti i suoi giocatori, parla, abbiamo visto che parlava con Bellingham. C'è solo un'immagine tra tutte che si porta dentro in questo momento? Quando l'Arabetro ha fischiato la fine. Ma io volevo essere romantico. No, io no. Va bene, allora la lascio nelle mani di uno che forse è meno romantico di me, ma è molto... A volte è anche cattivo, però, eccolo qua, lo conosce molto bene. Clarence. Grande, grande, grande. Guarda, io ho goduto tanto dietro di te oggi, un certo momento. Davide viene da te e ti dice qualcosa sui due giocatori. Sui cambi? Sì, sui cambi. Idea sua e idea tua. Perché io poi vado a dire su questo. No, no, discutiamo, parliamo. L'idea di Josello era condivisa perché ci avvicinava alla partita dove avevamo maggior controllo e lui in area è molto forte, molto pericoloso. Il perché è il tuo leadership. vieni fuori in quei momenti lì. Quando un tuo collega, un tuo collaboratore viene con un'idea e tu dici lo faccio. Questo per me è stato un momento incredibile, riconosciuto perché abbiamo lavorato tanto assieme e quindi la tua grandezza. Credo che la delega, la delegare nella leadership è molto importante. Io ho la fortuna di avere uno staff di alto livello ma soprattutto i giocatori, non dico qualitativamente ma caratterialmente fortissimi. Assolutamente, ti faccio complimenti. Ciao, ciao. Carlo Ancelotti, bella anche la questione del leader, è vero. Il vero leader non è chi prende tutte le decisioni ma anche chi è in grado di delegare, scegliere le persone giuste per decidere tutti insieme e mi sembra che queste caratteristiche Carlo Ancelotti ce le abbia tutte, Clarence. È bella questa immagine che ci hai portato, grazie. No, guarda, stavo proprio dietro, in quel momento ho visto questo scambio di parole e dal non verbale capivo che lui in quel momento poi fa la sua idea su quella proposta, diciamo, di Davide e dice sì, fallo e poi fanno entrare Ibrahim e José Lu e poi abbiamo visto cosa è successo. Ma perché avevi la sensazione che ne avesse un'altra? José Lu che è stato criticato. Ah, è certo, sì. No, no, perché tante volte dal natore tu sei occupato con tante altre cose, quindi qualcuno può anche venire dalla panchina con qualche idea, ma tu devi accoglierlo. Certo. E quindi credo che in quel momento lui l'ha accolto da grande leader che è e ha messo in pratica questa idea. E poi José Lu che l'ha tenuto comunque in piedi mentalmente, si sente parte perché quel ragazzo ogni volta che entra, nonostante che sanno che non è un proprio sostituto ideale di Benzema, ma guarda cosa succede grazie alla sua gestione. Anche questo in effetti non era scontato, tener vivo un giocatore poco impiegato, tanto criticato a volte. Talmente bravo Ancelotti che si è scelto anche i parenti, cioè gli ha scelti bene anche i parenti. Grazie. Grazie. Grazie.